Anche quella era una trappola Nella vostra zona mancano poche abitazioni ormai Ne mancano solo due in quest'area Roger, il comando ci ha comunicato che per oggi dovete andare solo alla 37 Ricevuto La 37 dovrebbe essere da queste parti Speriamo che questa sia quella giusta Non possiamo resistere ancora per malattie Dobbiamo tornare indietro, Giorgio è messo troppo male Questa è l'ultima casa per oggi, lo torniamo alla base Aspettate, fermi un attimo Possiamo andare La casa è questa, entriamo Aspetta, provate Va con questa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'è successo? Niente. Non è andata da quella parte. Resta con Giorgio. Ok. Io vado a cercare qualcosa di mutilato. Non è andata da quella parte. Non è andata da quella parte. Sofia! Dove cavolo sono finiti? Cazzo, sono finiti i colpi. Non è andata da quella parte. Non è andata da quella parte. Non è andata da quella parte.